Visto che sei tanto al mio elo, che dici di fare una ranked in due? Addirittura dopo c'è una ranked? Io ancora devo fare il ripiazzamento, fai tu Eh ma non so se allora si può fare sai Eh perchè tu quanto sei piazzato? Fammi vedere Io sono silver 5 Ah 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 Sei un po' scarsotto quindi Ah no, sono silver... what? Mi si è buggato e mi segna bronzo 1 e silver 5 assieme Quindi è diventato abbrunz 4 E lo metto anche in chat così la gente vede quanto è fatto bene in questo gioco Anzi lo mando, visto che c'ho judge online su facebook Ora gli dico ah bello il mio elo Molto bello, molto bello Mi fa sempre meglio Quando esce la modalità pratica Quando esce Masa la modalità pratica tu che sei sempre informato? Che gioco sei parlato? Ah 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 Guarda che ormai non piacciono quelle cose eh Quelle lì piacciono a Sneetex, poi la chiederà a lui Allora ragazzi, allora cosa si maxa su Lux? Si parte di Q, si maxa la E, al 4 si sblocca la W Incredibile, vai, è easy, easy game, easy life Kifu è una che, una che si mette, che gioca Lux Gioca Lux senza skin, ma come cazzo si permette? Ma non gliel'hanno insegnato i miei genitori? Minchia quanto danno che hai fatto Ryze? Io l'ho fatto un botto io ma mi ha distrutto pure lui Ma l'ho detto è un fan Eh non mi dai retta Non mi dai che il dirò è ancora forse Non mi dai? Non mi dai perché ci sono i miei genitori non ti dai E non ci dimenticate lo stesso Lo è ancora forse LOL che imbecille, LOL Lo 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 Stiamo giocando in normal è ovvio che sono imbecilli Che t'aspetti So lo davo Che in dreaded è il quattro ti faccio presente eh Per questo che l'ha uccita No no Lascia Lascialo Lascialo Lascia . . Mi sta inseguendo Stavo andando in bocca a Kindred E posso dare una kill a Kindred e farla diventare quasi utile No dai Mannaccia la miseria . . . tipo 2-3 ultimate ma io sono 7-1 divertente ragazzi ragazzi ho già l'altra cosa da fare perchè hai autoattaccato un sacco gli avversari con le spell esatto dimmi un po' quale devo fare ora? se fai aria ti fai elettro se fai come aria? fai aria e la peppa figa elettro, mi piace un foto ma i capelli sono fighissimi aria 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 una volta l'ho fatta fa al ninja e rosicato ninja la fa sempre da gay no gli ho detto io la prima volta che la stavo a giocare gli ho fatto ninja ma falla così e così ah ok mo la proviamo e io sono uscito delle farfalline e rosicato basta freddo no ho sbagliato l'ultimate che fail che sono sono un fail umano non ci credo non ci credo non ci credo il gromp penso ragazza no gli dai un sacco del valore e gromp il gromp guarda che stanni è 2x4 rai624 ma innazo sei 2x9 ma perchè sono morto dal naso su 2x9 ma faccio schifo porca putt función era 1x9 que' il naso a farà solo c'è l'altro la stitua è un vero ci vuole un altro è pure fischiato una stessa ma per gli sospetti dentro la base loro proprio non si sa perché da us a pesci da qui a qui ha fatto poteva farlo a piedi che ci metteva videotipo forse che riesce che prendere ah ragazzi easy bella bella sta l'orso a